Oh no! Proprio adesso! Vuoi non rispondere? Dai, che ti frega! Eh sì, se poi lui! No, che palle sono anche il mio! Dai, stai un po' Veloci però, eh! Amore mio, ciao! Sì, eccola la mia sbordolina! Sì, pensa, ti stavo per chiamare io! Sì, sì, sono a casa! Ah ma... Non ci sei per cena, quindi? Ma... A che ora torni? Sì, ma con chi? Ma dove vai? No, no, ma figurati, no! Non sono arrabbiato, è che... E ci tenevo, ecco, ecco tutto! Oh, che peccato! Eh sì, perché io ti stavo preparando tante cose buone! Va bene, va bene, ci sentiamo dopo! Buona serata! Ok? Ciao, 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 ciao! Ciao, mare mio! Ciao, 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 ciao! Tutto ok? Sì, sì! Per fortuna non rientro a cena stasera! E anche la mia ragazza! Allora possiamo stare per tempo insieme! Sì! Ma secondo te lei sospetta qualcosa? No, 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 va, figurati! Ma lui è piuttosto! Ah no, non credo proprio! Pensa che mi ha detto che stasera ce l'ha fuori con te! Ma è il tuo? No, non è il mio! Pezza, era il tuo, rispondi! Ma no, non lo sta suonando, controlla, guarda che è il tuo! Ma no, non è il mio! Ma di chi è? Eh, non lo so! È il mio! Amore! Sì, no, scusa, ero in galleria! Ciao! 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 Ciao!